Ciao ragazzi, benvenuti ad un altro dei miei video. Oggi l'attore in questione è Fakhin Davide, portiere della Reggiana. Andiamo subito a vedere qual è stata la sua parata. Qua c'è il recupero da parte della fermana. Guardate Fakhin. Ecco qua. Grandissima parata da tiro dalla diagonale. Una ve la faccio rivedere e vi spiego il segreto di questo intervento. Prima situazione. L'attaccante stoppa la palla in aria, il portiere si posiziona immediatamente e sta attento al tiro. Ma adesso state ben attenti perché è qui dove la teoria diventa pratica. Guardate qua. L'attaccante sposta il pallone. Fakhin cosa fa? Ruota solamente quello che è la sua postura non cambiando la posizione. Qua molti portieri sarebbero caduti in errore perché avrebbero accorciato in avanti riducendo quella che è la tempistica di parata e di conseguenza non sarebbero arrivati a fare questa fantastica deviazione. Parata perfetta. Bravo Fakhin. Qua sotto ci sono i cinque passaggi fondamentali per poter replicare questo tipo di intervento. Io ragazzi vi aspetto al prossimo video. Ciao.